Salve amiche ed amici di San Ten Chan. Benvenuti a un nuovo tutorial. Quelle che vi presento sono le sfere cinesi. Ecco qua, le sfere cinesi, note anche come Kung Fu Chiyo. Per allenare anche il corpo possiamo mantenere la posizione Mapu, la posizione del Cavaliere di Ferro, ed è così che irrobustiamo le braccia. Sono un esercizio completo che rinvigorisce i tendini e i muscoli delle braccia e delle spalle e di tutto il corpo, facendole ruotare in senso orario ed anti-orario, addirittura con più di un paio di sfere. C'è chi si riesce con due paglia, poi ci sono sfere di tutte le dimensioni, io ne ho di più grandi. Si dice che anche il loro suono, le loro campane interne, ci fanno un massaggio oltre che fisico perché si sentono le vibrazioni, anche mentale perché rilassa. Seconda l'intensità dell'esercizio il suono è più graduale o più intenso e aiuterebbe ad armonizzare anche la nostra mente, a rilassarci. Utile prima degli esercizi di Wushu e anche dopo, ma anche per allenare i tendini della mano, per evitare la sindrome del tunnel carpatico. con tre è un attimino un po' più difficile. Beh, questo è stato il mio tutorial sul Kung Fu Kyo o Chio. Ci vediamo a risentirci dal vostro sentimento. Grazie a tutti. Grazie.